Buongiorno vecchi cuori bianconeri, vi ritrovate su questo canale YouTube. Oggi faremo anche una live, una live di reaction a quelli che erano stati i miei pronostici d'inizio anno sulla classifica finale di Serie A e una reaction a quelli che erano le mie aspettative di gol e assist per ogni calciatore della Juventus. Quindi non perdetevela perché oggi pomeriggio ci divertiremo e ci saranno tante cose simpatiche a cui reagire tante fregnacce a cui ridere. Non mancate assolutamente, sarà una live molto molto divertente, ma come sempre questi confronti dei pensieri di inizio anno e fine anno poi sono utili per cercare di migliorare in futuro. Nessuno è perfetto, è difficilissimo fare delle previsioni. Secondo me non siamo andati troppo distanti da alcune cose, proviamo a vedere quello che sarà successo e invece per altri siamo andati decisamente molto molto lontano. Oggi però voglio fare un video in cui non parlo principalmente della Juve, si stanno leggendo tante cose offerte a Copmeiners, ieri abbiamo parlato di portieri che vanno e che vengono, addirittura prima di Gregorio ho messo su Instagram una storia dove veniva premiato come il miglior pretere della Serie A e io ho risposto alla storia ti aspettiamo presto e lui subito ha messo like, un secondo dopo, infatti ci sono rimasto male, quindi posso darvi questa testimonianza diretta di Gregorio non vede l'ora di arrivare alla Juve nonostante il suo passato da tifosi interista, il suo passato mi pare anche giovanili inter e tutte queste cose qui che però come sempre lasciano il tempo che trovano quando si parla di professionisti e di professionisti parleremo anche all'interno di questo stesso video perché voglio parlare degli incastri legati alle panchine di Milan e Napoli. Tanto una riflessione, l'anno scorso Pioli arriva quinto, va in Champions League soltanto perché alla Juventus vengono assegnati dei punti di penalizzazione e poi alla fine quest'anno Pioli che chiude il secondo posto viene esonerato mentre l'anno scorso era stato confermato. Sono le dinamiche del calcio ed è per questo che per tutto l'anno ci siamo ripetuti una fila strocca, anzi c'è stata ripetuta una fila strocca e noi cercavamo di smontarla, non è soltanto l'obiettivo finale, è anche quello che c'è in mezzo. Perché sennò è come prendere un libro, aprire il libro, andare a leggere le ultime tre pagine e dire ah beh il libro finisce così. È bello e brutto, sì ma nel mezzo quello che c'è stato per arrivare a quel finale lì lo ignoriamo, non ci serve, non è utile certo, tutto fa brodo. E alla fine Pioli secondo me viene giustamente allontanato dal Milan perché il suo ciclo era considerato finito e per me da tempo, per me già da prima di quella vittoria contro il PSG che ha un po' ridato poi entusiasmo al Milan per arrivare al termine di una stagione che nonostante il secondo posto secondo me è stata molto molto amara e avara di emozioni, tant'è che tanti tifosi del Milan che seguono questo canale ogni tanto nei commenti lasciano delle testimonianze. L'altro giorno ragazzi mi hanno detto sono contento per voi perché vedo che la state vivendo con entusiasmo, state cercando di costruire qualcosa, invece lato nostro sembra vedere che la proprietà non è proprio volenterosa di migliorare eccetera eccetera e anche la scelta di Fonseca va in questa direzione. Io ho tanti amici del Milan, l'altra sera parlavo con uno di questi e mi diceva bene o male la stessa cosa, cioè che c'è poca fiducia nella società Milan, poca fiducia nella proprietà, poca fiducia in quello che sarà il futuro, poca fiducia in quello che sarà il mercato, la volontà di cedere magari pezzi pregiati per monetizzare senza poi rimpiazzarli con dei giocatori magari all'altezza, questa è un po' la paura dei tifosi di milanisti. Secondo me non è proprio infondata, per me il Milan ha una buona rosa, lo sapete, poi oggi pomeriggio quando andremo a fare la live reaction a quelli che erano le previsioni del campionato lo vedrete, tant'è che per me il Milan era una delle candidate principali allo scudetto e secondo me la mano di Pioli ha impedito in questa stagione nello specifico di arrivare a lottare fino alla fine perché poi l'Inter stravince questo campionato, non c'è storia per quelle altre, non è tanto il piazzamento quanto più il percorso, quanto più la distanza, quanto più la percezione, l'Inter è sempre stata una squadra davanti a tutte quelle altre, sempre stata una squadra troppo più forte per quello che era riuscita poi a creare, a dimostrare sul campo e tanto la mano di Simone Inzaghi secondo me è stata presente, il Milan con la scelta di Fonseca non mi convince tantissimo, c'erano tanti italioni, allenatori interessanti, si era parlato dello stesso Antonio Conte che poi arriveremo, ci sarà la seconda parte del video dedicata interamente ad Antonio Conte che era un profilo, un nome molto interessante soprattutto quando sono queste squadre che devono ricostruire il nome di Conte sempre interessante, poi Conte sarebbe stato forse uno dei primi o comunque forse, addirittura il primo forse a vincere da allenatore, avesse poi vinto lo Scudetto Colmina ovviamente ma sapete che quando si parla di Conte l'associazione Scudetto è sempre molto immediata, l'unico allenatore ad allenare Juve-Milani-Inter è vincere, poteva essere eventualmente, poi che la storia di Conte in Italia finisca qui per me è una cavolata, secondo me Conte bene o male arriverà ad allenare tutte le bicchi del campionato italiano perché abbiamo visto che non si fa tanti scrupoli ad accettare anche piazze opposte a quella che è stata la sua carriera da calciatore cioè la Juventus giusto così, è un professionista poi ne parliamo. Io un allenatore che vedevo particolarmente bene al Milan, dato che prima vi paravo di taglioni, era italiano perché il Milan è una squadra che gioca sfruttando molto gli esterni e il Milan ha tanti esterni e per me italiano con il suo pressing, il suo approccio al calcio in maniera anche offensiva se vogliamo a volte anche squilibrata, poteva essere una buona scelta per il Milan, italiano che lascerà la Fiorentina, ora vedremo quale sarà la squadra che lo ingaggerà, sarebbe interessante il Bologna per avere italiano anche in Champions, italiano che in questo momento sta preparando una finale europea e che quindi è abbastanza impegnato in altre cose, però la scelta di Fonseca sul Milan non mi convince, un allenatore che negli ultimi due anni ha allenato in Francia al Lille in precedenza le due stagioni alla Roma non proprio esaltanti per quanto mi riguarda, però un profilo che a quanto pare a Milano non l'ho ritenuto interessante, si era parlato anche di altri allenatori, si era parlato addirittura di Van Bommel che poteva essere un giocatore che tornava da allenatore, insomma se ne hanno fatti tanti pensieri alla fine sembra essere Fonseca l'allenatore, io non sono proprio convintissimo di questa scelta, poi magari me ne pentirò, però io in questo momento dico per fortuna per la Juve l'anno prossimo dovrebbe esserci una candidata in meno ai nastri di partenza per quelli che possono essere i posti più nobili in Serie A e magari pure lo Scudetto, invece di Scudetto Napoli bisogna parlare, dopo una stagione travagliata, credo a mani basse la peggior storia di una squadra campione d'Italia, perché dopo aver venuto lo Scudetto arrivare in quella posizione di classifica con tre cambi allenatori in panchino, uno più disastroso di quell'altro, perdendo spalletti praticamente come se fosse l'ultimo arrivato, perdendo Giuntoli come se fosse l'ultimo arrivato, boh per me De Laurenti deve fare un mea culpa allucinante e forse questo mea culpa si chiama proprio Antonio Conte, un Antonio Conte che sembrava impossibile da vedere a Napoli, tra l'altro mi ha fatto ritirissimo, perdonatemi una breve parentesi, ci sono dei profili su Twitter che sono meravigliosi, ringrazierò sempre Elon Musk per aver comprato questa piattaforma, ci sono dei profili di insider che sanno tutto e ci sono dei profili che per mesi, mesi, mesi hanno parlato di Conte alla Juventus e loro sapevano e quelli che parlavano di Motta erano dei deficienti e loro invece sapevano, erano più informati, invece quelli che parlavano di Motta non sapevano cosa dicevano, l'altro giorno uno di questi insider mi ha detto che invece c'era un Luca Toselli che parlava di Conte al Napoli, figuratevi se invece si creda Toselli che parla di Conte al Napoli, io non ho mai parlato di Conte al Napoli perché non ho informazioni di questo tipo, non ne so assolutamente nulla, sono stato accusato anche di aver eliminato i tweet di questa mia informazione di Conte al Napoli, alla fine Conte va davvero al Napoli e questi su Twitter invece, questi tweet in cui dicevano, ah Toselli dice che sono stati eliminati quelli, quindi è stato meraviglioso, si è avverata una cosa che io non avevo mai detto e mi hanno detto di aver detto, mi hanno appioppato la santità praticamente come a padre Maron, mi ha fatto molto ridere, perdonatemi questa piccola digressione ma era necessaria perché ogni tanto certe cose sul web sono meravigliose e vanno raccontate anche per farci una grassa risata, però Antonio Conte al Napoli sarebbe, perché è ancora un ufficiale e fino all'ultimo mi tengo questa riserva perché mi sembra talmente assurda come storia, come situazione che sarebbe tosta perché sicuramente il Napoli è la squadra in Italia che ha più bisogno oggi di un allenatore della tipologia di Conte, però Conte è un allenatore che guadagna tanti soldi, è già lato stipendi, immaginarmi un De Laurentiis che riconosce tanti soldi a Conte, boh mi nasce un po' perplesso, che avrebbe bisogno di tanti cambi sul mercato e quindi anche aprire accessioni importanti, ieri abbiamo parlato di Di Lorenzo ma io immagino che Osimane sarà costretto ad andare via, quindi bene o male uno dei giocatori più importanti nel Napoli sarà Kvara, allora Conte non giocherà 3-5-2 o Kvara farà la seconda punta? Iniziano ad esserci anche un po' di dubbi su questo lato modulo, lato organizzazione del Napoli di Conte, sarei stupito di vedere Kvara a seconda punta nel 3-5-2, magari Conte andrà ad approcciare con un 3-4-2-1 come era stato al Chelsea, possibile anche questa cosa qui o come aveva fatto al Tottenham, però sembra quasi Premier League 3-4-2-1 Italia 3-5-2 il ragionamento di Antonio Conte, poi con noi ha giocato anche 4-3-3, 4-2-4, quindi non è nemmeno un integralista assoluto della difesa 3, però bene o male la difesa 3 è stata la marchio di fabbrica di Conte nel periodo post-vittorie, quando ha iniziato a vincere con la Juve, poi difficilmente, anzi praticamente mai né col Chelsea né con l'Italia né con l'Inter né col Tottenham è mai passato, ritornato a una difesa 4, quindi mi immagino un Napoli comunque predisposto con una difesa 3, però non è solo un discorso di soldi, non è solo un discorso di ambizioni, ma è anche un discorso legato ai caratteri, alle personalità Conte contro De Laurentiis. Ora, Manna è stato preso da Napoli proprio per dare quell'impronta sportiva che aveva preso in mano De Laurentiis, praticamente quando i presidenti si mettono a fare i direttori sportivi è sempre un po' un casino e noi lo sappiamo bene, però il carattere di Conte, il carattere di Laurentiis mi sembrano incompatibili, cioè Conte-Napoli mi sembra il ricalco perfetto di Sarri-Juve, poi Sarri-Juve è stato anche un ciclo di un anno, ma un ciclo vincente perché Sarri vince lo Scudetto, però Sarri vince lo Scudetto con una Juve che lo vinceva da 8 anni di fila, che aveva raggiunto uno status nazionale, internazionale di un certo tipo, con Cristiano Ronaldo, con una squadra di alto livello. Era una situazione differente rispetto al Napoli che vince lo Scudetto un anno con Spalletti e poi cambia in tre allenatori e arriva fuori dalle coppie e allora prende Conte per ripartire. Poi Conte, ripeto, è uno di quegli allenatori che ti fa fare il collegamento, arriva Conte e allora lo Scudetto diventa per forza di cosa un obiettivo della squadra, maggior ragione in Italia. Però non lo so, però non lo so davvero perché sono davvero due caratteri troppo forti e troppo dominanti e secondo me sarebbe come mettere due galli in un pollaio. Poi sulla griglia di partenza difficilmente riuscirei a mettere distante dalle prime posizioni l'ipotetico Napoli di Conte, a prescindere da quello che sarà il mercato perché Conte quando si muove vuole delle garanzie, su questo non si scappa. Però è una scelta che mi lascia anche un po' stupito, devo dire la verità, perplesso Fonseca, stupito Conte perché non pensavo che potessero davvero poi arrivare a un accordo e che Conte potesse accettare non tanto la piazza di Napoli quanto più di lavorare a stretto contatto con De Laurentiis che uno che sappiamo è abbastanza invasivo dal punto di vista delle decisioni dentro il club. Queste sono un po' le mie considerazioni sparse anche sulle altre squadre che dobbiamo per forza di cose prendere in considerazione perché l'anno prossimo saranno squadre che lotteranno insieme a noi per quelle posizioni lì di classifica. Fatemi sapere un po' la vostra prima qui sotto nei commenti, lasciate un like, iscrivetevi al canale perché dobbiamo arrivare a 250.000 iscritti il prima possibile e attivate la campanella perché oggi pomeriggio ci divertiamo in diretta con tutte le cavolate che ho sparato la scorsa estate. Ciao a tutti ragazzi!